un nuovo video svuota la spesa iniziamo da acqua e sapone ma prima salutiamo la mia mamma tanti saluti auguri a tutti e il ritardo no veramente già ve l'ha fatto mia madre ha speso 57 euro e 22 centesimi feeling ammorbidante fior di loto 1 euro e 20 mia madre prima se l'ha studiata non è vero lo sono guardate due confezioni di sapone dub a 1 euro e 49 centesimi questo lo uso anch'io contorno occhi senza parabeni siliconi petrolati e peg olio minerale paraffina e bacido ialluronico e si presenta sotto forma di tubettino così lo devi picchiettare quanto hai pagato 5 euro e 10 due di white now gold era in sconto 1 euro 99 a questo dermomed intimo ph 4.5 alla calendula queste ne presi due alla bellezza di 89 centesimi niente allora pasta del capitano whitening pasta del capitano protezione antiplacca come sempre mia madre nella mia famiglia si bevono i colluttori e whitening ma durano molto il colluttori e te la voglio riportare whitening già c'ero lo so ma te lo dico perché sono 4 a 99 centesimi whitening out man 2 e generale forever si io poi voglio provare un trattamento sbiancante su irex in the wonderland e quindi se ancora non sei iscritto iscriviti l'ines idea ultra quante confezione un euro e venti bio repair pro white non lo so dove li come fanno a usarne così tanti vabbè sono in tre però e poi queste protezione gengive però mamma hanno fatto vedere uno per le gengive in tv che lo volevo prendere oggi poi ho detto non mi prendo il blanco perché non me lo dicevi perché tu non mi hai detto che c'era questo perché ce l'ho preso io allora quindi questi due due euro e 69 fresh ipologenico pelle sensibile fresh and clean sì 99 centesimi poi crema a mani protettiva con antibatterico all'estratto di propoli igiene q azione idratante e questa leo crema come inci sono discreti però non sono neanche tutto secezionale però per le mani non c'era niente di che quindi mia madre ha dovuto optare per questi un euro e 90 questa è un euro e 75 se mi segui su irex in the wonderland saprai che il siero viso che gli avevo preso a mia madre ha fatto una brutta fine è arrivato in mille pezzi quindi ha dovuto comprarne un altro perché la crema viso dopo un po non fa niente ci vuole il siero e questo qua è un siero viso acido ialuronico idrata a fondola e rassoda la pelle efficace aspetto completo c'era di cupra questo qui 6 euro e 99 col dosatore però ti idrata di più la pelle rispetto alla crema dai 30 in su la crema non va utilizzata oppure va utilizzata la crema in combo al siero geomar crema lenitiva idratante con bio fiori d'altea questo ve l'ho fatto vedere molte volte e li ho preso a mio padre giusto? 3 euro e 60 l'isoform candeggina con detergente freschezza alpina 1 euro e 49 di questa ne hai presi due tovaglioli li ho comprati perché costavano niente 99 centesimi scotonelle vabbè 2 euro e 99 allora sacchetti cookie da 15 20 e 30 1 euro e 20 ognuno continuiamo con Sisa dove mia madre ha speso la bellezza di 88 euro e 0,5 centesimi 1 e 2 50 centesimi questo bianco yogurt bianco e questo i cereali Müller mix questo è interessante cookies e cream 4 con i biscotti ma che buoni 49 centesimi ognuno Actimel miliardi di probiotico sistema immunitario questo è alle fragole 2 euro e 29 centesimi poi Santa Rosa la confettura di albicocche 1 euro e 99 c'è un vento oggi vero ma incredibile cioè sembra che deve portare via non lo so che cosa comunque la maionese questa è simpatica come cosa che ci hanno scritto sopra i nomi delle città mentre cercava a trieste per chi si sa che è di là sopra e tu cercavi di quale erano che c'è nata qui è normale quindi io cercavo anche direttamente sicilia 1 euro e 99 ognuna crackers salati 1 euro e 89 easy meal 4 euro e 74 due confezioni mazza perché non ne avevo più 95 centesimi di camomilla ah questi sono interessanti ricchi di fibre sono buoni integrale con zinco, patassio e magnesio della calbusera questi 2 euro e 69 un pietersivo per i piatti chanteclair profumato con olii essenziali di limone e basilico interessantissimo 99 centesimi il formato è da 500 ml un altro detersivo per i piatti perché forse a mia madre proprio gli mancava rio piatti questo qui è al polpel polpelmo rosa 99 centesimi besciamello a leggera trevalli che dice alta digeribilità senza lattosio vediamo se c'è anche l'olio di pelle gli ingredienti dove sono? 1 euro e 25 non hanno riportato gli ingredienti su questa confezione dovessi usare i bagiggi 99 centesimi 1 euro e 0,9 aglio 99 centesimi ma madre mi dà quelle cose che già ha visto ma è vero ce lo scontrino qui che è tutto come una paresima i cornetti del mulino bianco i classici 1 euro e 29 e ne ha presi due 3 pacchi madre i biscotti misura 2,59 2 di intimo venus ultra delicato 95 centesimi dice due e me li porto qua davanti perché qua doveste vedere la postazione agito di mele sisa 1,25 1,69 di ammorbidente sisa al muschio bianco e alla lavanda che non può mai mancare a casa nostra sta mozzarella non va da un tubo no io come la mozzarella ragazzi dell'MD lo dice pure mio marito dobbiamo andare all'MD solamente per la mozzarella cioè noi per fare la pizza quelle mozzarella sono tante e invece le mozzarella di DMT sono tante 1,45 1,99 di 2 polpa bella star una mela al giorno toglie il medico di acqua 1,33 ah domani pioverà eh io balbetto 1,33 euro eh ah domani piove l'ha detto eh 6 mele 33 trentini mamma dillo 33 trentini no veni qua vicino 33 trentini entrano in trento tutti e 33 trotterellando ah 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 ho fregato ho detto a trento vicino si è la prima impappinata ho detto devo fare bella figura mi devo impappinare la seconda volta caramba 2 euro te lo dico subito si ma fammi dire che cos'è la patate altra carta igienica 1 euro e 40 i guanti M 85 centesimi e 99 centesimi di spugnebile da mamma vieni qua salutare dai saluta ciao a tutti no saluta da un mese spuntata mentre parlavo no 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 io li saluto così con la mia voce aleatoriamente che poi ti ti sei fatta vedere per la live di Natale mi va bene sì certo ecco sì come ciccino la giornata oggi non è la mia giornata oggi non è la mia giornata la fammi vedere ecco va bene così passa ciao ci ho provato con questo bellissimo vento vi salutiamo e grazie sempre per seguirci con affetto un bacione a tutti ciao ciao